Ok, torniamo all'altra parte Non era questo quello grosso che dicevano allora? C'è niente, non è che è cicciato fare qualcosa Ah, devo vedere che cazzo è la materia distruttiva Sbaglio sempre Distruttiva, 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 eccola Ah, ok, quindi toglie... sarebbe di spell Potrebbe tornare utile però per il momento Questo posto così Ok, dove erano i tesori che mi mancavano? Questo è un'invario giusto Oh no Forse devo tornare di qua e mi ha aperto l'altro lagone Qua credo è tornando là Ah sì No 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 andare sia di qua sia di là. Qua però c'ero venuto da qua, giusto? Sì, sì, sono venuto da qua, che lì c'era il tesorino, eccolo, sì, 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 ok. C'era un tesoro che non avevo preso, ma probabilmente... lo troverò di strada. Sì, discendo e attraverso quest'altro alcune. Just like we hoped. What a relief. We should be able to get through now. Let's find out. C'è una alta in le caisse da rompere. C'è il mio bauletto. E sopra che era uno spirito e una materia. No, uno spirito. Ok, devo andare in un lato dove c'è la luce. Andiamo. C'è la pure io, d'orna. Dove te credi. Che occhio. Sopra. No, uno spirito. E se volete. Che è il tuo cuore. Chi è il tuo cuore. E' di qua. E' di qua. Andere.. Sì, adesso! Sì, andiamo! Un'altra parte! Che sfondo... Questa è una lucetta così, non è niente. Siamo girato tutto, manca solo un pezzettino per uscire. Andiamo. Sarà veramente l'uscita o c'è un altro boss? Siamo arrivati. Molto, andiamo fuori. Aspetta. Una ragazza? Marlene? E i bambini che la bambina ha portato il bambino, devono vivere in un pezzettino per sempre e sempre. Quindi devi restare da lì, da lì. Andiamo. Allora, andiamo. Oh, sai Betty? Sì? A presto, lei è venuto con il suo padre per... ... 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